I vaccini arrivano sul territorio attraverso due vie, gare che fanno le ASL per i medici in generale, i pediatri di libera scelta e qualcosa è arrivato, ma servono fondamentalmente per i pazienti over 65 anni e i soggetti a rischio, ma per tutti gli altri soggetti che si volessero vaccinare. Quindi è fuori dal soggetto attivo che vuole vaccinarsi per essere più tranquillo e più sicuro, sul territorio vaccini allo stato attuale non ci sono, perché chiaramente quelli vengono distribuiti attraverso altri canali. Esiste un provvedimento, un progetto da parte della protezione civile per importare una dose di vaccini, un quantitativo di vaccini proprio a questo tipo di impieghi, quindi per le farmacie territoriali, allo stato attuale però non sappiamo ancora in che quantitativo né quando arriveranno. Una situazione che potrebbe cambiare, migliorare nelle prossime settimane, c'è questa speranza? In funzione di questo ordinativo, poi dipende, se sarà un milione di pezzi, un milione e mezzo di pezzi, una cosa, se sarà meno, saranno sempre pochi. Le farmacie prese d'assalto, tantissimi clienti chiedono il vaccino, voi non sapete come rispondere? Ovviamente le richieste sono tante, questo è evidente, anche perché c'è stata una campagna pro vaccino, di vaccinazione, che serve anche a fare un minimo di screening differenziale rispetto all'eventuale infezione da Covid. Allo stato attuale però, ripeto, purtroppo la disponibilità non c'è. Quelle persone che devono essere vaccinate, perché per legge, per gli over 65, le persone malate, i vaccini bene o male arriveranno, ma gli altri rischiano di rimanerne senza? Ma gli altri allo stato attuale, per gli altri allo stato attuale non ci sono, la realtà è questa. Se non arriva questa fornitura da parte di protezione civile, noi non riusciamo a reperirli. La giornata del vaccino, perché mai come quest'anno il messaggio è uno solo, bisogna vaccinarsi, è importante vaccinarsi. Certo, bisogna vaccinarsi perché nell'imminente stagione influenzale, la co-circolazione del virus influenzale con il coronavirus, potrebbe naturalmente procurare delle situazioni di non semplice governo, soprattutto per quanto riguarda i servizi sanitari della nostra regione, della nostra Asla. E pertanto abbiamo ritenuto di organizzarci come azienda sanitaria, utilizzando tutte le leve, naturalmente, dei nostri ambulatori vaccinali, che già avevamo, che erano 8, sino ad arrivare a 21 punti vaccinali. Riguardo all'approvvigionamento dei vaccini, noi abbiamo un cronoprogramma di approvvigionamento che naturalmente è cadenzato in diverse settimane, tenendo conto che naturalmente chi ha fatto la gara è il soggetto aggregatore della regione. Le campagne vaccinali sicuramente slitteranno sino a gennaio, quindi diciamo che si avrà tutto quanto il tempo anche per l'approvvigionamento, di cui sentivo prima parlare il Zenobi per quanto riguarda le farmacie.